Ciao Morty. Ehi papà, ho visto che hai chiesto riserva. Io avevo avvertito che non era facile come mestiere. Certa gente non regge la verità. Specialmente gli sciocchi come me. Morty, non sono intelligente come tuo nonno, ma... ti prometto che questo non ti creerà mai più problemi. Ehi papà, può capitare di chiedere riserva, ma questo non significa che tu sia un incompetente e il trenofermo non fa danni. Io sono... lusingato e onorato figliolo. Grazie. Ultimiamo un sistema solare a otto pianeti? Ah, non ricchi ha fatto comprare queste specie di portafortuna. Ma che tu sia preparato o meno a svolgere il mestiere non significa che tu non debba essere scaromantico. Ricorda che un macchinista fortunato torna sempre a casa per cena. Oh, io credo di capire. Giochi proprio col fuoco e insomma devi comprarla. Sì, ho capito, non dire altro. Uno di questi giorni, sai, tu vabbè esploderti in locomotora. Ho capito, preso nota. Buonanotte. Grazie. Grazie. Grazie.